Io penso che il problema sia proprio questo, che il fatto che lui dica io sono così, che vi piaccia o no, invece secondo me lui dovrebbe semplicemente ascoltare a volte, cosa che non fa spesso. Non volevo neanche parlare per ascoltarvi, però adesso stavo parlando. Ho avuto tante occasioni in cui mi sono reso conto che non ascolti tutto qua. No, no, gli dico semplicemente lo strafottente a caso in cucina, poi io ti ho perdonato, ti ho abbracciato, ho sorvolato. C'era un motivo, tu non devi soffermarti. C'è sempre un motivo, però se vuoi capire una persona non lo giudichi dicendo adesso sei tu che non mi ascolti, vedi? Devo ascoltarti solo io? È questo un dialogo? Ma no, ma parla pure, figurati. Allora, a me non piace così. Se vuoi torno bambinone. No, ma tu puoi essere quello che vuoi, forse non è chiaro. Infatti in questo momento non voglio essere bambinone. Ma no, ma fai quello che vuoi. Ok, ti sto spiegando. Io ti sto solo dando un consiglio. Mi stai ascoltando? Mi vuoi dare un consiglio mentre parlo? Vabbè, finisci. E poi sono io che non ascolto? Da. No, tu non recepisci. No, io recepisco molto bene. Ed è per questo che ti ho perdonato, perché credo che tu sia molto di più di quello che io ho visto. Penso che tu mi debba perdonare per qualcosa. Ok, però sentirmi dire certe cose e vedere certe immagini, adesso capisco anche, e voglio essere onesto, quello che diceva Paolo. E io non lo volevo comprendere, non volevo ascoltare Paolo. Però adesso... Non l'ho detto. Sì, invece, l'ascolto Paolo. Ma tu ascolta Paolo, ma soprattutto ascolta te stesso. No, no, io ascolto. Grazie. 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 Grazie.